il significato. Questo signor Renzi, grazie che me l'ha ricordato, questo signor Renzi ha tolto tutti i fondi dopo l'alluvione, bravo, ha tolto tutti i fondi dopo l'alluvione, questo signore è venuto, ha capito tutto, sapete cosa mi ha risposto? Sto bene qua, mi ha detto. Sto bene qua a parlare con i cittadini, a fargli capire che il Movimento 5 Stelle è quello che è. Il bambino è postato bene. Il bambino è postato bene. Grazie.